Perché acquistare un appartamento da mettere a rendita? Di sicuro è un investimento a basso rischio che ti permette di avere la massima resa. Nonostante ciò ci possono essere preoccupazioni che ti bloccano nel fare questo passo, come i tempi di affitto, le permanenze, la burocrazia, la tassazione, il rischio del mancato pagamento ed eventuali danni al rilascio. Un'agenzia specializzata solo affitti ti permette di vivere il mondo delle locazioni con la massima serenità, azzerando i rischi. In particolare quello più rilevante del mancato pagamento, attraverso le formule di garanzia come affitto sicuro e solo affitti pay. Contattami subito per conoscere tutti i dettagli.